Ben trovati, troppe volte parliamo dei problemi nella pubblica sanità e molte volte ci arrabbiamo per gli sprechi di risorse, per la superficialità che a volte si riscontra nella organizzazione anche burocratica o amministrativa all'interno delle singole asla di Puglia e del Salento, così come troppe volte rimproveriamo anche quelli che sono i ritardi nel cambiare i malfunzionamenti che procurano solamente elevati costi e non si va a razionalizzare realmente il sistema sanitario. Ma tutte queste parole poi hanno un peso ancora più devastante quando vengono alla luce casi di cronaca drammatici. Una donna di 24 anni perde la vita dopo aver visitato l'ospedale di Grottaglie, di Manduria e poi a quello di Taranto, il Moscati del capoluogo ionico. Perché deve succedere questo? Per quale motivo una persona deve essere trasferita da nosocomio a nosocomio con una febbre altissima che potrebbe già, come dire, sollevare l'allarme in qualsiasi semplice cittadino, principalmente un medico, su quella che potrebbe essere il rischio di setticemia, che poi non è altro che un'infezione che può avvenire in ogni parte del nostro corpo, che avviene in una velocità tale da poter procurare la morte. Probabilmente potrà essere questa la causa di questo caso o di tanti altri casi drammatici in Italia. Ma poi mi si risponderà che quando si muore tante persone invece in quello stesso momento vengono curate, guarite e dimesse in perfetta salute. Sì, sarà anche vero, ma è come se si dicesse che un ciclista che partecipa ad una corsa porta a casa un buon risultato malgrado le due ruote. Beh, se fai il ciclista deve pedalare su una bicicletta, se fai il medico devi curare un paziente, se fai il giornalista devi dar notizie e non devi far altro. Sconcertante se è vero e se è vera la precisazione dell'azienda sanitaria che afferma no, non sono stati quattro gli ospedali che purtroppo hanno visto la presenza della giovane atleta della provincia di Taranto, morta 24 anni dopo averne visitati tre, ma sono stati, dice l'ASL, soltanto tre gli ospedali. Ecco, colui o colei che ha fatto questa affermazione dovrebbe essere rimosso o rimossa subito. Che risposta è dopo la morte di una giovane donna dire a notizia uscita sulla stampa che non sono stati quattro gli ospedali incapaci di curarla, ma tre. Queste non sono parole da poter emettere, sono dei suoni insensati che escono da una mente che inutilmente dovrebbe invece garantire il governo della pubblica sanità. Non dovevano essere neanche tre, doveva essere un solo ospedale, il primo ospedale, quello che eventualmente poteva salvare la vita alla giovane istruttrice di nuoto che qualche giorno fa è morta perché tre ospedali non hanno trovato una soluzione. Non ci interessano i telegrammi e le parole sofferte di amministratori pubblici e di amministratori sanitari. Io chiedo la rimozione di colui o colei che ha detto, specificando anche agli organi di informazione nazionali, che non sono stati quattro gli ospedali, ma soltanto tre. Ma invece una cosa è certa, una donna che aveva una vita davanti, che aveva soltanto 24 anni, non c'è più su questa terra. A domani.